Il logo che vedete nelle immagini si chiama Valore Toscana ed è destinato a diventare il marchio collettivo di tutte quelle imprese che potranno avvalersene per la qualità delle loro lavorazioni e dei loro prodotti e per il rispetto di requisiti ambientali e sociali. Il logo è stato presentato nella sede della Presidenza regionale dai 19 enti, sindacati e associazioni di categoria che un anno fa firmarono con la Regione il Patto per lo Sviluppo, un documento finalizzato a favorire la ripresa dell'economia regionale, sostenere le piccole e le medie imprese e rafforzarne la presenza sui mercati internazionali. Il logo è stato ricavato da un simbolo toscano universale, rielaborando le figure del cerchio e del quadrato che rinchiudono l'uomo vitruviano di Leonardo e che rappresentano due segni ricorrenti anche nell'architettura e nei monumenti toscani.